Sono lui, adesso sta Oh prima, to' tt Ah Tt1 Tt1 3 0 2 1 3 2 E' la già scatola l'umper 1 3 3 I numeri dell'otto Giochiamo Ci giochiamo il 3, lo 0 che non c'è Il 2, l'1 e il 3 un'altra volta Quanti numeri vuole giocarsi? Ma sei sicuro? Si, si, sono sicuro Eh, lo ci strunzo se vengo faccia risata facciano come vestito mamma e guarda ma che te ne babbo natale un culo quando la cista il signor robinson che sta andando all'assalto da solo oggi morta a posto gioca qua ok smettere il muro vaffanculo già morta una volta ma Roma questo ma guarda la chi stucca tano capelli babbo natale è morto mamma ed accateniamo al signor johnson che fermo ma è il manco di spalaggio anna c o parola davo di chissime ci ho messo da 0 0 4 mamma mia brava e non mi ricordo una che si chiama con un'arma che si chiama rai me sei gay grande ho fatto una kills 5 1 non sono 15 tutto buono la nuova partita ma serio ma ma se ne fra me lo male che tengo 14 di sensibilità questo però anche se l'avanzio cazzo caccia caccia pari da sui giochi si è andato con i passi hanno fatto hanno fatto l'applicato supremo questo gioco avere una merda è diventata bella ma guarda chi è stata come mi ricordo una partita che era più round ho fatto 60 20 oh e chi sta la esce ma come mi ha fatto morire bella c'è fatto pure la giravolta su me stesso quando ha già morto ma guarda che è un pallo pallo ma chi è questo mi ha fatto cacamano ma in bed mi ha sparato ecco mi ha fatto pure un muro ma da chi è un bastard ma meno male ma come questo ci è passato a fianco non l'ha ammazzato ma è coglione dai mo spieghi dove stai? perfetto allora vai strums ahahahahah ti piace che bella quello mi ha esplose una bomba in c***o però mi ha esplose una bomba in c***o a me mamma mia ma quanto sta? ma non lo so ma quanta gente c'è in questa mappa dai a me e chi starà esce? dove è andato? maämma mia ma ma che faccio pure io ma perché ma nooo ma щag mi sei spento ma maschina stagionato fra stagionati ed acta ma ma le so ma non ti è andato a puntare qua ma chi c***o bopo muone ma ma che si cerca Sì Posto apposto 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 No, volevo curarmi e lanciato la granata, cazzo Marona, che mi faccio proprio schifo Ma con me, Giustino Tenare, eh? Ci pensiamo a Christ Ma che fa? Signor Robinson, ma lei cosa fa? E' pazzo Dove cazzo? Oh, è stronzo Me la vale che non c'è fuoco amico Ma no Lei è ucciso tu o l'ho ucciso io? Eh no, l'ho ucciso io e ti ho sperato in mezzo al corpo Il gioco è senza collisioni Oh, ma grande, mi ha ammazzato Ti ha givisti Ma di stuta l'ha ucciso Al posto mio Ah, ma chi si fa spollare i nemici? Si fa spollare i nemici Ma chi l'ho giustato? Questa prende a Killuzuru A Killuzumano Buonasera Buonasera Buonasera, eccomi qua, sono Kurtzumano Proprio io Quello che picchi i gatti Però non è tanto Kurtzumano E' tanto strunz Ma hai giusto Ma io giusto che può Che non vuoi Zia Maronna mia Maronna, maronna Il bombare Il bombare Però io voglio mettere Voglio No, ha già mangiato la tua granata Ma che hai fatto? Mi voglio curare Cioè non riesco a mettere la grana, non riesco a curare, che cazzo? Ma non è mai che te è vivo, che te c'è da mattino, mannaggia Ehi, Spawn è moro, Spawn è moro A posto, a posto Oh, ma che resta la zocco la nera qua? Eh, l'ho ucciso Ah, ah, Maroni, mi ha stuprato, che dolore Ma, ah, 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 ma che cazzo fa chi sta, su guard Ma sta un wallback Buongiorno Boh Ma non avete relies che la pistola silenziato che lo uscirò Ma che servite Ma vede Ah, ma che bravo come ti stai scopando il cane o che dice fa il festino vetranse allora un vizio di famiglia l'ho ucciso con le mie manine anzi con i miei proiettili l'ho ucciso ma che fa la chist ma è idiota cioè quello gli passa a fianco e non lo spara che cazzo fa ma è ritardato è gay c'è la mamma troia è l'unico motivo no guarda l'ho finito i colpi annaccia miseria se no c'è cura su scemo dai ci sono la pistola grande ma l'anno mi chiede saon in campana signor alburio sono morto ma ci sono zocco la nera è solo una sfida tra quei due il sesso tra noi due c'è chi stai ci spara ma giro un po' vai mi chiede ilред maronna mia l'ho zacchiai ma sei oh si scende il cloud che sta pagando sangue o bello si esercitavano bello per lo spawn sto stronzo un gioco a romani chiusa a panini sicur nudo come quello ma lo so me lo so accorto che stava dietro di me infatti mi sono girato per curarmi come c'è da fascino appena vista banale non già visti più will nell'anno unire signor robin sarà il cisunito ho fatto il culo a salò mi ha evitato la morte 22 ma come bello allora mettiamo dip pedot cade pot di pedofilo di quandic buonasera a tutti faccio lo cazzo questo qua 17 headshot taccia mio ho fatto 17 kill e 23 morti io ho 20 22 vabbè non è male caro direi mi è piaciuto proprio capisci se su lingo le parole dunque gym è cambiato non è più quello che sale sulla stefania e dove sale sulle palle un po' grande next next bitch i'm rich ma come si cambia l'arma qua ah ebbè la vostra cambia no spero puoi cambiare la puoi cambiare metti su l1 r1 là però spiega come ero fatta la si può cambiare solo solo prima di entrare in partita che hai fatto hai quittato eh si no sto entrando in partita ma che cazzo vai spiega ma ho quitto pure io c'è non si può quittare prima no che cazzo non ci devo quittare non puoi stai chi squadra con giustino e mohamed dico squadra in merda ma serio allora intanto prima mi ha vinto ah ok sei entrato in partita sei entrato in partita nostra eh si ma eccolo qua grande ho fatto follow ma ho fatto entrare in partita siamo dei pazzi siamo nudi e siamo anche violenti direi meno male oh si spogliatevi per noi spogliatevi per noi si si fate sesso con noi volete vederci il pene me lo faccio vedere perché ho il pene pieno di peli il culo pieno di peli ciao ciao andiamo uomo palla venga con me uomo palla camperiamoci qua sopra io a lei ecco dove stai? qui sopra qui sopra ecco già sono morto di solito no mi campero sempre là dai io non sono riuscito a salire perché mi hanno sparato è sti cornuto sti figlia puttana chi è salito? riesco a salire? guarda là ma fatti caldo io no guarda là vabbè stai zoccolo ah ma noi siamo con lo camusco che stiamo si stiamo cuo con la mosca mosca si si sto camperando io ok apposta hanno ucciso all'uomo ragno chi si è stato non si sa io stava stato gemon ma lo cazzo vai stai scendo a zoccoli sordo no era sceso a torno gemon qua no? eh ho visto qualche settimana fa stava qua gemon sentiamo noi cosa stiamo qua che non è posta sta spente scende gemon e se prende si inizia a parlare il suo atto della guerra qua e questo mi fa sentire l'altro noi a guerra in 5 ti rimangevano ma siamo contro mi è ucciso come come stiamo contro no è mecciso no commesso fatti siamo contro non mi piace allora non c'è spizio non c'è spizio appazzia allora non mi piace infatti io dovrei fare la giacità all'uomo ragno io non capisco hai detto dai chilo moragno non capisco ma che fa chissima moragga che è andata a mano guardano poco ma che è sto pazzoide della macchina stanno morendo proprio stanno morendo come i pesci cioè ma tengo dei compagni di squadra che sono inutili guarda là stanno morendo in continuazione sti scemi non c'è che non ottenga granata casinò sti scemi che stanno a caccia c'è un picco proprio ah ma ammazza l'altra volta a te ah ecco stai solo tu ecco stai solo tu non c'è capito no mi hanno ammazzato stavo per fare il sanguinaccio oh si nemmeno io ed esci col pesce da fuori maron questo sei tu ciao no no è johnson è john johnson mi ha ammazzato il signor johnson madriani ma l'azzo no no tu è credito min m maron maron mi ha ammazzato ma acrobatta bene viv è una l'uomo che protegge la gente dentro ai muri no ma no mi sei andato da una coppia? no si invece no no cazzo maron ma no ma ce l'ho posto bravo ah mannaggia mannaggia 5-10 e mi fanno 6-9 no guarda chi sta sotto mi ha acciso zia ma come cazzo mi ha ammazzato questo no ma da no ragni progettare un shot allora un shot di gemman in partitella mannaggia oddio wow pare che faccia a posto basta basta guarda ma se io voglio l'altro ma che stascio che tu sei lato ammazzato il signor Jones chi è? ma che ti fai il tuo culo? ma sciso no e tu che ne sai che gli fai del culo? gliel'ha dorato per caso no si chiama e che ti fai di si chiama? no ma ammazzato sta zoccolo ma sto 18-8 ma ci cero quazzo ma gente che sento in coppia i container comunque fanno schifo quazzo ma infatti faccio schifo oh i a i i i i li i 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 ho ammazzato a drago sin si è chissò vuole da ammazzare assurdo c'è ma quello stanno sperando che stavano sparando da tre ore non niente coiuto tu hai passato l'asso tu lo puoi ammazzare a me praticamente eh si 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 è il mio banale oh ma come è zumbata bella andrea oh oh che è il sangue se l'avevo la rete no eh non mi piace no no Nicola Manzo mi è ciso oh ma è me ci sono tu nel casino generale in mezzo ad amsterdam mi è ammazzato ora siamo quattro non manca più nessuno solo non si vede gemman vabbè normale canzone no guarda l'anno è morto stanzoccolo cazzo ah sta puttana ma due colpi mi hai chiamato in culo due ma chi cazzo è signor johnson è morto lo so no oh oh è morto bene si è morto qua sotto la chiamata del signore la chiamata del signore cazzo è morto questo mi è tragrado ad andare a ciro sul io pensino ma dove era una ciro a posto lo sapevo che lo guarda lo sapevo non ti ho ammazzato io eh attenzione no andrò qua ti è che mi toto morti guarda chi sta guarda chi sta guardando il mucello per una volta tanto che sono sceso mi stava arrivando a una granada ma per una grande sono morti all'ultimo che è stata fatto punto oh giovelli che è giovelli e perdonava come so bollilli i colondini 25 12 cioè sono morti 25 volte per pagare tu 30 30 mamma mia no via via ho visto che sei morto 9 volte si è fatto 9 a 0 si non l'ha 2 dico 9 a 2 proviamo proviamo a quittare vediamo se capiamo la stessa cioè la stessa squadra un'altra volta a meno che il mondo ci mette proprio nella lobby ci mette nella stessa squadra a 13 e 17 e 18 kill ci c'ero cazzo quindi ci pudding c'è qu'è Grazie a tutti.